Ciao a tutti, benvenuti. Oggi intervistiamo Giorgio Meloni, il nostro presidente del Consiglio. Sigla! Ciao Giorgia, benvenuta intanto. Volevo andare subito al punto. Secondo te, qual è il più grave problema dell'Italia? Cioè, se tu dovessi dire, l'Italia va male perché è... ...interamente occupato da extracomunitari. Sì, gli extracomunitari. Avete in mente di fare qualcosa? È finita. Questo governo ha dato il via alla propria, diciamo così, guerra lungo tutto il territorio nazionale, si è cominciato a fare quello che non veniva fatto. Ecco, spieghiamolo bene questo punto perché sai come in Italia pieno di comunistelli avevano da ridire sui vostri legami con le famiglie legate alla malavita, organizzazioni mafiose. Invece spieghiamo come adesso questi legami tornano utili nella guerra agli extracomunitari, Giorgio. Spiegaci un po' come li suddividerette questi vostri affiliati nelle varie zone d'Italia. A Roma 10 famiglie criminali, a Milano 91, a Torino 11, a Napoli 16 persone legate alla criminalità organizzata e a Foggia 17 appartenenti alla criminalità organizzata locale. E questo è un lavoro che intendiamo portare avanti, continuare a portare avanti nelle prossime settimane. È sicuramente un lavoro che richiede tempo, ma intanto cosa vuoi dire a tutte le persone che ti hanno votato che in questo momento sono in difficoltà economiche gravi, ci sono persone che non si possono neanche più permettere l'affitto della casa. Cosa diciamo a queste persone? Le famiglie che non hanno la possibilità di avere una casa, di dormire sotto un ponte. Le famiglie che non hanno la possibilità di avere una casa, di dormire sotto un ponte.